Ieri durante una live mi hanno chiesto di parlare di questo gioiello qui, Oud Aquilaria, di Oman Luxury. Beh, in realtà quando si parla di questi gioielli, quando si parla di questi topolavori, c'è poco da dire. Il naso della fragranza è semplicemente uno degli artisti più importanti del mondo, uno degli artisti più importanti di tutti i tempi, ovvero Dominique Ropion. Naso di punta di un brand fantastico che sarebbe Frederic Malle. Allora, Oud Aquilaria è un profumo semplicemente strepitoso, elegantissimo, un profumo che ti eleva dieci spanne sopra gli altri. È una fragranza che si apre con delicati accenni di pepe rosa, rosmarino e un tocco di mela, seguito da un adorabile bouquet floreale. C'è un accordo di Oud molto seducente e si chiude con accenni di paciuli e ambra. È un profumo che dà grandi emozioni, un profumo che dà felicità, eleganza, importanza a chi lo indossa. Il bouquet floreale al suo interno è semplicemente poesia, un connubio tra rosa turca e rosa bulgara, fantastico. Ragazzi, questo è un vero capolavoro e lo trovi qui da me all'Assente Academy Boutique.